Arresti in aumento del 13% rispetto al 2020 per un totale di 1.644, di cui 120 per associazione per delinquere di stampo mafioso, 6.500 persone denunciate e 30.000 reati segnalati. Incremento anche degli atti persecutori, con 178 denunce ricevute e maltrattamenti in famiglia in leggera flessione, 45.000 servizi esterni con 270.000 persone e 170.000 veicoli controllati. E poi ancora le operazioni Vortice Maestrale, che ha portato alla cattura di 99 esponenti del clan Striciulio di Bari, Logos, che ha sgominato il clan Lojudice di Altamura e Astra, con 35 arresti del clan Palermiti del Capoluogo. In ultimo i sequestri preventivi per circa 200 milioni di euro e gli arresti per i reati contro la pubblica amministrazione, come il caso del giudice De Benedictis, l'oncologo Rizzi e la presunta corruzione elettorale a Trigiano. Sono questi i numeri dell'anno 2021 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari, a renderli noti il colonnello Francesco De Marchis, al vertice dell'arma del Capoluogo da luglio scorso. Il comandante, inoltre, ha fatto riferimento anche all'ultimo mese all'intensificazione dei controlli anti-Covid sul territorio. Dal 1 dicembre, con riferimento al possesso del Green Pass, sono state controllate 14.400 persone sanzionate in 68, mentre altre 39 persone sono state sanzionate per non aver indossato la mascherina. Negli stessi 20 giorni sono stati anche controllati 2.200 esercizi e attività commerciali e in 29 casi i titolari sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. I riscontri di questi primi giorni di controlli sono confortanti e ci restituiscono un quadro di grande responsabilità da parte della collettività, che ha piena consapevolezza dell'importanza del rispetto di queste misure per contenere la diffusione del coronavirus. Naturalmente questi controlli saranno ulteriormente intensificati nei prossimi giorni, anche con particolare riferimento alle giornate festive e prefestive.